Città olimpica Quando il 10 febbraio del 2006 La fiamma olimpica si è accesa nel cielo di Torino Lo sport è uno strumento Per costruire cittadini migliori Lo sport è uno strumento per costruire Un mondo migliore in cui vivere E far crescere i nostri figli Lo sport per questa città Come per tutte le città del mondo È un patrimonio, come un teatro O una biblioteca o un museo È per queste ragioni che sostengo Con passione e con orgoglio La candidatura di Torino 2015 Capitale europea dello sport Capitale europea